Grazie a tutti Ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul canale Io sono Maxi e questa è una grande notizia secondo me Come avete letto nella breve miniatura 20 anni di Ubisoft, 30 giorni di regali, 1 mese di regali Sì ragazzi avete capito bene Ubisoft per i suoi 20 anni aveva già fatto dei regali durante l'anno Che stava regalando alcuni giochi gratuitamente accedendo al sito di Ubisoft Ha deciso per questo mese a partire da ieri Per questo mese diciamo fino a Natale Di regalare un regalo al giorno Un regalo che potrebbe essere un gioco mobile Potrebbe essere il 75% di sconto su un gioco da pc O un gioco da console Oppure regalare un gioco da console direttamente Insomma ci sono questi 30 pacchetti regalo Quindi ragazzi accedendo ogni giorno Avrete il diritto a riscuotere il vostro regalo Per fare questo basterà accedere con un account Ubisoft Penso che lo abbiate tutti un account Ubisoft Se magari avete comprato che so Far Cry 4, Far Cry o qualcosa del genere Oppure Rainbow Six Quindi comunque avete un account Ubisoft E potete accedere al sito Quindi ragazzi io spero di avervi dato una buona notizia Accedere all'account Ubisoft è abbastanza semplice Basterà comunque inserire i vostri dati Ubisoft E vi troverete direttamente nella pagina Ubisoft Dove potrete comunque riscuotere il vostro premio Questi ragazzi sono i giochi che hanno dato in questi ultimi 6 mesi Quelli che ho fatto appena vedere E qui comunque torniamo ai premi Che dovete rispondere Ragazzi per questo video è tutto Spero che la notizia vi piaccia Un saluto da Maxi Al prossimo video Ciao a tutti